www.feyyaz.tv 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 Ah! Ciao Rosinia! Ria, vai! Vieni! Com'è bella! Buon Natale! Mi dici grazie allo zio? Lo sai che dice allo zio? Ti dici grazie, tue sayo! Grazie zio. ... ... Eh, eh, eh. Eh, eh, eh! Eh, eh! Eh, eh, eh! Eh, eh! Iìah! Eh! Booo, booo, booo! Eh! Dià! Rao! Rao! Pisa, percania! Pisa, percania! Pisa, percania! Pisa! Fa! La tua parte del senato a po' Pisa, percania! Pisa! Pisa, percania! No, questo, questo! Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.